Mi occupo di fotografia di still life ormai da quasi vent'anni, principalmente beverage e food. La parte che mi piace di più è in assoluto la parte di provare ad immaginare la storia che vogliamo raccontare con le immagini e andare a costruire tutto un mondo attorno a questa storia. Ogni progetto ha le sue peculiarità e ha le sue difficoltà da risolvere. Questa è una componente fondamentale del processo di fotografia di still life. Dover ogni volta trovare una strada diversa per riuscire ad arrivare al risultato voluto. Avere la possibilità di trasmettere le mie competenze e la mia esperienza, aiutare le persone che vogliono fare di questa enorme passione un mestiere è quello che mi fa rimanere innamorato del mio lavoro quotidianamente.